buongiorno a tutti e bentornati nel nostro programma i canali fondamentali del marketing per il b2b videopillole per l'imprenditore oggi parliamo siamo quasi giunti alla fine del nostro percorso e oggi parliamo dell'analisi dei dati quindi quanto sia importante analizzare e tenere monitorato quello che stiamo facendo per migliorarne le performance ma lo facciamo subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati oggi parliamo appunto di analisi dei dati quindi è uno strumento fondamentale sappiamo benissimo che se non guardiamo quello che stiamo facendo e non abbiamo una bussola difficilmente potremmo orientarci in un mare così complesso come quello della comunicazione alla fine poi è tutto abbastanza semplice se reso professionale in tutto questo percorso che abbiamo fatto si capisce che ci sono degli aspetti tecnici e degli aspetti strutturali questi aspetti però che sono stati creati e resi canali e strumenti di comunicazione non possono essere efficaci fino in fondo se non c'è un monitoraggio è importante conoscere gli accessi al sito è importante conoscere il tempo di permanenza quindi adesso facciamo alcuni esempi per capire se sono stati efficaci tutte le azioni che abbiamo fatto quindi ci sono diversi strumenti google analytics seo zoom search console insomma sono strumenti abbastanza tecnici che però chi è in grado di farlo per professione monitora con naturalezza e sono strumenti che ci servono a seconda del diciamo del canale che stiamo utilizzando ci danno delle informazioni quindi sostanzialmente per fare degli esempi se abbiamo creato un sito nuovo dobbiamo capire se gli accessi sono minori o maggiori rispetto a prima ci sono degli strumenti proprio di analisi che fanno capire vi do alcuni dati fondamentali poi sempre ben disponibili ad approfondire ci sono degli strumenti come ad esempio google analytics che ci fa vedere gli accessi quotidiani al sito ci fa vedere la permanenza media di ogni utente sulla pagina faccio degli esempi se abbiamo dieci accessi al sito della durata di 5 secondi l'uno vuol dire che l'utente appena entra esce perché non trova un contenuto di valore perché non c'è un'immagine emozionale perché ha sbagliato perché il nostro sito è lento ci sono tantissimi motivi è chiaro che questa analisi tramite anche come vi spiegavo in un video relativamente ai siti web di ricezione di informazioni dal sito anche da parte degli utenti tramite registrazioni è fondamentale capire cosa succede capire cosa succede per migliorare le performance faccio altri esempi sapere che gli utenti ritornano è una cosa molto importante quindi questi strumenti di analisi fanno capire quanti utenti nuovi e quanti di ritorno da precedenti visitazioni del sito quando il sito vi dice accetti l'utilizzo dei cookies i cookies questi biscottini sono esattamente questo cioè una traccia che viene lasciata sul vostro computer per capire se a quel sito oltre ad altre informazioni con che per capire se a quel sito non avete già acceduto in passato e quindi sono strumenti per la tracciabilità quindi il sapere che un utente si affermi gli utenti mediamente si fermano due tre quattro minuti su una delle nostre pagine è fondamentale perché se i tempi sono questi vuol dire che la nostra pagina ha dei contenuti seo e viene trovata a dei contenuti di valore viene letta e magari anche dei video che intrattengono a questo punto più alta la permanenza su un sito è meglio altre cose importanti è il percorso quindi il percorso che fa l'utente accede su una landing page o accede all'home page ma poi va a vedere le pagine del prodotto le pagine del portfolio dei clienti le pagine dei servizi quindi naviga la tracciabilità per sapere se un utente arriva esce va piuttosto che fa un percorso è fondamentale per capire come migliorare gli aspetti del sito perché il sito è un investimento e l'investimento va fatto fruttare va abbellito migliorato e ottimizzato nel tempo fino a che non sia raggiunto uno stato di eccellenza è chiaro che gli algoritmi sono sempre in modifica e di conseguenza bisogna sempre ritarare alcune cose però diciamo che le strutture di base vanno mantenute quindi un sito ben fatto va a dare dati di analisi ottimi stessi strumenti ci sono di monitoraggio per le campagne quindi per le campagne a pagamento quali sono le parole più cliccate quelle meno cliccate perché gli utenti arrivano sul nostro sito da quale fonte arrivano dai social arrivano da newsletter da un link diretto arrivano da una ricerca su google da una ricerca a pagamento da una ricerca organica queste sono tutte informazioni che sono fondamentali nella nostra strategia che abbiamo cercato di costruire insieme per regolare questi rubinetti quindi se vedo che il maggior canale di ingresso dei miei nuovi potenziali clienti è linkedin accidenti su quello andrò probabilmente a aumentare il volume se vedo che le campagne in questo momento non hanno effetto perché non mi portano nulla allora le devo riottimizzare e spegnere quindi la conoscenza del dato e questo un imprenditore lo sa solo la conoscenza del dato consente di cambiare la strategia o migliorarlo o mantenerla sui social network è una cosa analoga quindi riusciamo a capire quali sono i profili degli utenti che visitano quali sono i target anche relativamente ad altri canali ad esempio come il posizionamento organico delle parole sul sito tramite alcuni strumenti di analisi delle keyword che vi dicevo nel video specifico del SEO il monitoraggio e l'analisi delle parole chiave che abbiamo inserito all'interno del nostro sito e il monitoraggio delle parole dei concorrenti con dei grafici fa sì che noi possiamo capire su quale parole puntare di più o di meno e quindi magari incentivare un certo tipo di servizio perché in questo momento è molto cercato noi siamo abbastanza dipendenti da dalle mode dalle tendenze dagli strumenti da quello che fa il nostro cliente medio quindi l'avere il monitoraggio di quello che l'utente cerca mediamente e beh ci dà esattamente il mirino laser per andare a sparare in quella direzione lì e non sparare con il fucile a pallettone quindi l'analisi del dato è uno strumento fondamentale per capire tutti i canali di marketing che fino ad oggi vi ho prospettato come stanno andando e apporre delle azioni correttive migliorative o di mantenimento di continuità a seconda dei risultati che stiamo ottenendo quindi è un processo un percorso necessario da mettere in pista con una cadenza periodica ogni mese di due mesi ogni tre mesi più frequente è e chiaramente più si riesce a monitorare migliorare le prestazioni dei nostri canali strumenti di marketing mi ringrazio e ci vediamo nella prossima puntata